Ciao e benvenuto in Coffee Book, ogni giorno le informazioni di un libro alla durata di un caffè. Questo riassunto in audio del libro Allenare la memoria aiuta la tua memoria a spiccare rafforzandola rapidamente in modo efficace. Di Carlo del Portago è offerto dall'app Skillsland disponibile su tutti i dispositivi Apple Android. Buon ascolto! La memoria è un sistema complesso di cellule nervose che vengono rinnovate più e più volte ma possono venire scomposte. Il cervello ha bisogno di regole e schemi chiari. Se non riesci il tuo obiettivo sarà difficile da raggiungere. Sembra tutto molto complicato ma con un po' di perseveranza e forza di volontà non lo sarà più. Il divertimento è fondamentale nella vita. Se non c'è la quotidianità diventa automaticamente triste e incolore. Perché è così importante? La risposta è davvero rapida. Solo coloro che apprezzano il divertimento sono motivati e possono migliorare le loro prestazioni. Svilupperai disciplina e sentirai uno spirito combattivo. Crea un programma che ti convinca davvero e che risponda alle tue capacità. Non dimenticare che stai imparando quindi non metterti troppo sotto pressione. Il divertimento e la gioia dovrebbero risultare naturali senza forzature. Le basi dell'allenamento della memoria non differiscono necessariamente dalle altre cose della vita. Anche qui entra in gioco la regolarità. Devi provare a farlo con un certo ritmo perché non ti darà gli effetti sperati se fai gli allenamenti ogni due settimane, dopo tre settimane e la volta successiva dopo una settimana. Un risultato positivo e visibile può essere raggiunto solo se fai regolarmente ciò che ti imponi di fare. Se hai intenzione di provare alcune tecniche anche solo una volta alla settimana, sarai comunque sulla strada giusta. In questo caso però dovresti rispettare il tuo ritmo e non rimandare mai. Sfortunatamente rimandare non ti aiuta con la memoria. La regolarità si verificherà se hai sempre in mente il tuo obiettivo. A poco a poco noterai come il tuo cervello aumenterà le prestazioni e presto dovrai semplicemente accorciare le tue sessioni di allenamento. È il momento di entrare in un nuovo stile di vita. Ciò che non sapevi fino a poco tempo fa può già essere applicato nella tua nuova vita a partire da subito. Credi in te stesso. Non si è mai troppo vecchi per imparare. Un buon cambiamento. Non conosce età. Se ti interessa approfondire l'argomento trattato in questo libro, dentro l'app Skills Land hai due audio a seconda del tempo che hai a disposizione e due riassunti scritti se ti piace di più leggere anziché ascoltare. Ogni giorno centinaia di libri subito a tua disposizione. Provala! Clicca sul link in descrizione. Ci vediamo al prossimo caffè!